Chiude in netto rialzo la borsa di Tokyo, l'indice Nikkei guadagna il 3,77% e si porta ai massimi dal settembre 2008 quando scoppiò la crisi finanziaria di Lehman Brothers. A trascinare il mercato giapponese le dimissioni del governatore della banca centrale Masaki Shirakawa, il numero uno della Bank of Japan lascerà il suo posto il prossimo 19 marzo, tre settimane prima della scadenza naturale del suo mandato quinquennale. Il premier Shinzo Abe ha già chiarito che il successore, con tutta probabilità Toshiro Muto, vice di Shirakawa, dovrà attuare una politica monetaria più aggressiva per combattere la deflazione. Ai minimi dal 2010 la moneta giapponese, per un euro ci vogliono 127,56 yen.